Quando invoco padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II, ma perché ce l'hai tanta con lui? Ha dato due motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo è perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della sabentura. Per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che... e ce l'ha con padre Pio. Tanto che alle volte, io non ho mai visto niente, ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo, dalla persona esorcizzata, guarda che durante l'esorcismo c'era presente padre Pio. Ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto, costretto. Quali sono le virtù della Madonna? Che più ti fanno rabbia. Perché è la più umile di tutte le creature, e io sono il più superbe. Perché è la più pura di tutte le creature, e io sono il sogno. Perché è la più ubbidiente di tutte le creature, e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità, per cui hai tanta paura della Madonna, che ti spaventi di più quando domino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo, una volta mi aveva detto ho più paura quando nomino la Madonna, perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura, anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averla suggestionato. perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato.